Enrico Rossi, il governatore della regione toscana, torna nuovamente a Pieve Santo Stefano a circa due settimane di distanza dalla scorsa visita. Il presidente, accompagnato dall'assessore regionale Vincenzo Ceccarelli, sarà infatti ricevuto domani in comune alle 17. Sarà ovviamente l'occasione per fare il punto della situazione sulla E45. Nel corso dell'incontro dello scorso 9 febbraio, nel quale non erano mancati alcuni momenti di tensione, il governatore aveva infatti annunciato la costituzione di un gruppo di lavoro per quantificare danni arrecati alle attività economiche a seguito della chiusura della E45. Il governatore inoltre non aveva escluso un intervento finanziario da parte della regione. Se l'entità del danno è piccola, possiamo anche intervenire come regione senza disturbare Roma. Se l'entità del danno è grande, ma io voglio vedere conti prima di tutto e quindi occorre un sistema per rilevare conti, bisogna che intervenga Roma perché oltre un certo limite le regioni ovviamente non possono spendere e non hanno le risorse per farlo. Nel corso dell'incontro di domani potrebbe essere quindi annunciato l'arrivo del tanto atteso ristoro per tutti coloro che sono stati penalizzati dalla chiusura dell'arteria. Intanto vanno avanti i lavori di manutenzione programmata su viadotti Puleto e Tevere 4, in attesa che prenda avvio anche il cantiere incaricato di risistemare la vecchia Tiberina Trebis. Da oltre una settimana inoltre è tornata percorribile al traffico leggero la E45, dopo il sequestro e la conseguente chiusura, ovviamente con le prescrizioni dettate dalla procura di Arezzo. Resta invece lo stop per i mezzi pesanti. Anas, nel corso del sopralluogo della scorsa settimana, alla presenza del ministro alle infrastrutture Danilo Toninelli, aveva annunciato la riapertura totale del viadotto Puleto entro un mese. Prosegue dunque il conto alla roveccia da parte di Anas per rispettare i tempi annunciati.